E mi ricordo che fin dal primo giorno di scuola io mi vestivo in modo un po' eccentrico, un po' così, perché io ho sempre adorato la musica metal. Presente i metallari, no? I capelli lunghi, i vestiti di nero, prendono il microfono e fanno... Ruttano boh, quello che fanno i metallari. A me piace. Anche se mia nonna ogni tanto mi fa... No, Sofia, devi smetterla di ascoltare quelli che urlano e parlano di morte! Me lo dice mentre guarda Barbara D'Urso. Grazie.